Ciao a tutti ragazzi, siamo oggi in un nuovo video perchè l'ultima volta ci siamo fermati con i pacchetti ehm, Andreani questo video, ehm, mi voglio dire che eh, mio padre mi ha rifatto la ricardica ho comprato nuovi pacchetti e oggi li andiamo a spacchettare allora, ragazzi sono super contento perchè non gliel'avevo manco chiesto, me l'ha fatto pure la sorpresa quindi, sono veramente contento allora, questo mi sembra un poco di, non tanta rara, ma un normale bustino allora io subito apro, senza ovviamente, ehm, girare perchè sennò non ha senso io ora non voglio vedere la carta rara, forse, no, non si vede la carta rara allora, inizio, prima carta dell'Inter iniziamo bene questa qui del Napoli non so se trovo non so se trovo non so se trovo scusate che t'era passata mia madre ehm, scusatemi davvero tanto ehm, allora ehm, dicevo eravamo a questa carta dell'udinese oh non so che cos'è questo questo è un'istruzione ah nel pacchetto ho trovato le istruzioni sembra questa cosa gratis di installare boh poi quella stella molto bella l'udinese è quella del Torino bene è volato già un pacchetto riuniamo quindi tutto il pacchetto abbiamo trovato questa del Torino questa dell'udinese questa della della stella dell'Atalanta questa è un'altra dell'udinese questa del Napoli e questa dell'Inter prossimo pacchettino ed è più grande vogliamo se qui potrò nascondere più desideri non lo so paura che se devono rompere le figurine è proprio nella merda allora ho fatto malissimo questo pacchetto ne ho giuro una malezza proprio il gioco che proprio veramente la dirà pure fastidio allora 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 che cosa sto vedendo iniziamo allora iniziamo questa qui dell'Antalanta ovviamente non l'ho vista tutto ho solo visto che stella del Bologno cioè raga oggi mi sta andando benissimo questa è della Roma questa è della Fiorentina le due che avete visto c'è Lazio e Lecce e quindi qua mi sa già di un poco di doppioni ma comunque conteniamo nel prossimo pacchetto ragazzi ragazzi io che sono un umano sfortunato nella vita che mi porterà molto sapete ragazzi che una mia un mio compagno ho trovato in questo pacchetto normale la Momentum cioè pazzi blindato dell'Inter no vabbè quella della Salernitana Bologna no raga assurdo Atalanta Sassuolo e questa della Salernitana questa mi è davvero piaciuta abbiamo gli ultimi quattro pacchetti iniziamo dall'ultimo che non mi dovrebbe dire bu ragazzi più posto di tempo più più ho più l'ansia di vedere che cosa posso trovare perché io voglio essere sempre curioso voglio vedere cosa trovo scudetto del Monza forse doppione quindi iniziamo con bene questa del tesoro questa del Genoa ho visto ancora rare uuu diamante non l'ho mai trovato il diamante che bello questa della Roma e questa della Roma ragazzi mi sto veramente divertendo sapete che forse se questo video potrebbe arrivare quasi a 20 visualizzazioni io posso portare altre figure ma di più è un giorno quando sarò grande e avrò dei miei soldi compre 100 bustine 100 euro però sperando di trovare qualcosa di buono sperando di trovare premium cost cioè perché ora non dico di trovare tutto perché sarà un assenso però dico di trovare qualcosa che mi soddisfa qualcosa che mi faccio rendere felice allora iniziamo ma proprio di culo un altro scudetto dell'Empoli salermitana cioè proprio oggi a culo io credevo che trovo cazzate bologna ma io voglio imparare questo che mi ha dato le figoline chi è stato questo negoziante che mi ha dato le figoline gli manda una preghiera gli manda una buona salute un altro diamante questo qui che forse doppia ma chi se ne frega ringrazio un sacco davvero il prossimo pacchetto gli ultimi dei pacchetti che figo allora innanzitutto vediamo che cosa possiamo trovare no vabbè portierone del verona no 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 raga raga mi sto emozionando questo dell'altananta questo del monza questo dell'empoli questo del sassuolo e questo della sassuolo no raga raga l'ultimo pacchetto scusa l'ultimo pacchetto cosa trovo la momentum no raga io non voglio trovare la momentum però io voglio essere un bambino corsiale non voglio trovare la momentum perché poi non c'è soddisfazione io invece voglio soffrire voglio che mi fate soffrire immagino quando voglio la momentum me la fattora mi fate trovare la momentum ma se trovare la momentum me la regalo perché io voglio soffrire cioè voglio proprio che io soffri perché ragazzi l'energy ragazzi 8 energy se ne siamo questa è della Lazio questa è dell'Inter masterclass bello questo è del mondo e questo è normale ragazzi mi sono un sacco emozionato è stato bellissimo aprire questi pacchetti allora spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi sono 7 pacchetti allora ci vediamo in passione ciao ciao